Ok ragazzi, siete Vladimir Vladimirovich Putin, il presidente di tutte le federazioni russe, passate, presenti ed eventualmente, se ce ne saranno, anche future. Siete già arrivati ad ottobre ed è ora di pensare ai regali di Natale da fare ai vostri amici. Ma esattamente, quanti amici vi sono rimasti? E nelle relazioni internazionali che si instaurano quando dai il via a una guerra imperialista e finisci per essere ricercato per bipicidio? Che cosa potrà mai andare storto? All'inizio del 2022, presso le Nazioni Unite, si tenne una votazione per stabilire se la Russia doveva effettivamente fare armi e bagagli e ritirarsi dall'Ucraina, oppure se la sua operazione era più che legittima. Ebbene, vi sembrerà strano, ma 141 nazioni dissero che Zio Vladi aveva leggerissimamente esagerato, che doveva raccogliere tutti i suoi carri armatini e anche i bossoli sparati e tornarsene ai confini del 1991 o giù di lì. Oltre alla Russia, invece, le nazioni a favore dell'invasione sono state sei. In Europa e in Asia, in pratica, si sono schierate dalla parte di Zio Vladi la Bielorussia, l'Eritrea, la Siria e la Corea del Nord. Ah, quanto vorrei avere delle clip di questi dittatori slow-mo che camminano sugli effetti speciali e la musica di Suicide Squad. In effetti, sei alleati sono pochissimi, però in compenso le astensioni sono state 32. E fra gli astenuti si contano la Cina e l'India, i due migliori partner economici della Russia. E la situazione economica della Russia non era poi così grave all'inizio della guerra, perché a prescindere dalla postura politica presa, due terzi del pianeta non adottarono inizialmente alcuna sanzione nei confronti della Russia. Ricorderete certamente Erdogan e la Turchia, che ha svolto attività di mediatore, ma soprattutto di portofranco e camera di compensazione, per evitare le sanzioni per qualche tempo, prima di essere richiamata dagli alleati europei e occidentali. E ricorderete anche la vicinanza alla Serbia, del tutto ricambiata, perché i popoli russo e serbo si chiamano fratelli da una vita, anzi oltre. O perlomeno così è stato fino a quando si è scoperto che i russi stavano cercando di fomentare rivolte in Serbia. E soprattutto fino a quando a Putin è sfuggita una frase apparentemente innocente sul riconoscimento del Kosovo, nazione che i serbi proprio non possono tollerare. Che cos'è accaduto? Molto banalmente Putin, in un'intervista o in un'altra occasione, per giustificare la sua invasione di terra dell'Ucraina, ha dichiarato apertamente che c'era il precedente del Kosovo. Il Kosovo faceva parte della Serbia, ma ha deciso di diventare indipendente, si è tenuto il suo referendum e buonanotte. Perché la Nato può fare queste cose e io no? I serbi ci sono rimasti male, si sono sentiti feriti nel profondo, perché tu Putin non mi puoi riconoscere il Kosovo anche indirettamente. Quindi sai che c'è? Visto che l'Unione Europea e la Nato pagano e offrono condizioni migliori delle tue, tu vai a prenderla in quel posto. Anzi, sai che ti dico? Ti dico direttamente che tu non puoi prenderti l'Ucraina. La Crimea e il Donbass sono e resteranno ucraini e la Serbia non riconoscerà mai i tuoi eventuali supposti e del tutto immaginari diritti. Arrivederci, la porta sta lì. Io ci sto scherzando, però il Presidente della Serbia queste cose le ha dette davvero. E poi, naturalmente, a parte il nazionalismo, c'è anche la questione dei fondi europei. L'Europa paga, la Russia tendenzialmente prende. Quindi, quando la Serbia ha dovuto decidere da quale parte schierarsi, si è schierata senza se e senza ma insieme al resto dell'Unione Europea. Naturalmente, visto che abbiamo parlato di Serbia, possiamo parlare anche direttamente di Ungheria e toglierci il lente. L'Ungheria di Orban è probabilmente la nazione europea più vicina alla Russia, perché, come al solito, i russi vendono gas e petrolio a basso prezzo. Bene, l'Ungheria ci ha marciato sopra per due anni e qualcosa, ma poi, alla fine della fiera, anche Orban si è reso conto di volere più di ogni altra cosa, non la giustizia o il petrolio, ma i fondi europei. Per cui, anche l'Ungheria sta riconsiderando la sua posizione, sebbene nei ritagli del tempo libero, continui a dare qualche leccatina o laccatina al regime di Zio Vlad. Per esempio, Orban, quando è andato negli Stati Uniti, ha incontrato anche il Donaldone nazionale, cosa che non avrebbe dovuto fare o che potrebbe essere letta come sgarbo istituzionale. Invece, l'ha fatto lui, presidente di una nazione in carica, è andato a parlare con un candidato per rafforzare la sua immagine e sappiamo tutti quanti che il Donaldone nazionale è filo russo nel midollo. Poi c'è naturalmente la presa di distanze da parte della Turchia, che è una cosa quasi spaziale. Come tutti sapete, o dovreste comunque sapere, la Turchia ha le pezze al fondo schiena e difficoltà economiche più o meno estreme. Se non erro, l'interesse sulla lira turca si aggira attorno al 49%. È letteralmente un gradino più sotto della Russia o più in alto, verso il podio delle economie disastrate. Prima della Russia hai praticamente soltanto l'Argentina e la Turchia. Tenetelo presente perché potrebbe tornare utile. Ebbene, la Turchia non pareva vero di poter fare da mediatrice fra la Russia e le nazioni che l'hanno sanzionata. Lo schema di base era semplice. Esporti l'impossibile in Turchia e poi da qui lo porti direttamente in Russia. In Turchia ci fai un passaggio intermedio ed Erdogan con questi passaggi intermedi riempie le casse dello Stato. Mediamente i traffici merci in Turchia nel primo periodo del 2022 sono saettati da circa 6 miliardi di dollari a circa 9-10 miliardi di dollari. Pronti via, la Turchia ha guadagnato un terzo del traffico. Il problema però sta nel fatto che gli Stati Uniti, l'Europa e buona parte degli alleati circa un mesetto fa hanno preso Erdogan per la spalla e gli hanno detto alcune cosucce. Non sappiamo esattamente che cosa si sia detto Erdogan con i rappresentanti di Unione Europea e Stati Uniti, ma una cosa è certa, quelle cose lì con la Russia non le fa praticamente più. Si limita a fare la cresta sul cambio per il tramite di una società controllata dallo Stato, ma per quanto riguarda l'import-export anche la Turchia si è data una pesante regolata. E anche con i due alleati maggiori, India e Cina, i rapporti non sono esattamente idilliaci. Prendiamo per esempio l'India. Ora, il presidente Modi è apparentemente riservato, molto composto, un tipo che si fa agli affari suoi e che nelle aree controllate dalla mafia vivrebbe tranquillamente per 120 anni, prorogabili per altri 120. Ebbene, nonostante le apparenze, come si dice, è l'acqua cheta che smuove i ponti. Modi, facendo finta di niente, ha concluso un contratto di esclusiva per la vendita di munizioni di artiglieria a due nazioni europee, per qualche strano motivo, non posso dirvi il nome della seconda, ma la prima è proprio l'Italia. Ebbene sì, noi italiani acquistiamo munizioni per artiglieria come se non ci fosse un domani e lo facciamo proprio dall'India. Ed è una cosa curiosa, perché francamente non mi risulta neanche che noi abbiamo un'artiglieria compatibile con le munizioni indiane. Sono quei misteri, magari c'è stato qualche errore per l'appunto nel passaggio delle scartoffie fra funzionari, non lo so. Fatto è che comunque noi stiamo accumulando scorte, non dico incredibili, ma davvero rilevanti di munizioni. Si narra che siano circa 800.000 o giù di lì. Poi qualche mala lingua dice che noi queste munizioni le mandiamo tutte in Ucraina. Ora, io francamente non mi sento di sostenere questa tesi, non c'è alcuna prova. Sì, Zele, non c'è bisogno che ringrazi proprio ora. Non c'è alcuna prova, insomma, sono le solite voci di corridoio. Zele, è arrivato il carico? Saluta Misirsky e digli che ha ancora 4 bilici da scaricare. Non c'è alcuna prova di queste transazioni. Putin però stranamente potrebbe essersela leggermente presa, perché dice ma come? Io ti vendo il petrolio ultrascontato e tu vendi le munizioni all'Italia invece che a me? Modi sul punto ha fatto l'ognorri, ha detto sì, adesso vediamo di sistemare questa cosa qui, ma di fatto mese dopo mese dopo mese dopo mese ancora nulla si è mosso e le munizioni indiane continuano ad arrivare a noi per finire poi in qualche stato giallo-blu. Poi Modi è andato anche a fare una gita fuori porta in Ucraina, scatenando la gelosia di Vladimir Vladimirovich. Come puoi andare a vedere un'altra mentre noi abbiamo questa relazione commerciale insieme? Non si dovrebbe e pare addirittura che Modi sia sensibile ai problemi dei bambini, perché in Ucraina tra le altre mille milla cose Zele gli ha parlato dei problemi dei bambini che sono stati deportati in Russia e che in questo momento crescono senza i propri parenti ucraini in Russia come orfani o comunque dati in adozione. È una cosa tristissima e pare che Modi se la sia presa a cuore. Tant'è che dopo una visita di zio Vladi da Modi, la dichiarazione del presidente indiano è stata questa. Rapplico di chiunque. I am piaci che vi invitano a me in un'altra casa e come un amico amico, noi abbiamo gari un po' 5 ore. Abbiamo parlato da diverse problemi. Mi è piaciuto che abbiamo parlato di spesso di un'altra insieme in dettagli, e abbiamo cercato di sentire e comprendere le persone rispondesse. Quando c'è guerra o anche terroristi attaccati, ogni persona che crede in l'humanità è becchia quando c'è una perdita, espesa di quando innocenti children sono morti. Ma anche in questo momento, quando innocenti children sono morti, il cuore il cuore e il cuore il cuore, e il cuore il cuore e il cuore. Io ho avuto una discussione con questo tema con voi. Come un amore, ho sempre detto che per il futuro futuro della prossima generazione è di più importante, ma anche che soluzioni non sono possibili per il mondo. Amidbombs, guns, e bulli, soluzioni e peace talks non succedere. We will have to follow the path to peace solo through talks. Several countries have been facing the problem of gasoline and diesel price hikes recently. However, due to India and Russia energy cooperation, we have been able to control inflation and help the citizens of our country by providing them stability for which I would like to express my gratitude. E Putin, dopo aver sentito questo fiume di parole non proprio esaltanti nei suoi confronti, ringrazia e se ne va immediatamente. È una scena straordinaria. Tra l'altro, ragazzi, gli indiani dai russi il petrolio e il gas lo acquistano pure, ma lo acquistano rispettando il price cap imposto dagli Stati Uniti. Quindi, sostanzialmente, gli indiani dicono sì sì, io compro, 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 ma a prezzi ultra mega scontati. E oltretutto, gli indiani pagano in rupie. Quindi, Putin sta accumulando rupie che non è in grado di vendere. Un altro amico ciccio ciccio che sta iniziando a lasciare Zio Vladi è proprio il Pakistan. E voi direte, ma ne abbiamo parlato ieri. Appunto, il Pakistan ha autorizzato scambi in natura fra le due nazioni. Memorabile lo scambio di 20.000 tonnellate di ceci in cambio di 20.000 tonnellate di riso. Qualche iscritto al canale mi ha fatto rilevare che in realtà qui Zio Vladi ci perde perché i ceci hanno un apporto proteico infinitamente migliore rispetto al riso del quale, peraltro, ignoriamo la qualità. Potrebbe anche essere un Carnaroli. Chi può dirlo? Però, insomma, i russi danno 20.000 tonnellate di ceci che sono proteici. Si portano a casa 20.000 tonnellate di riso. Probabilmente anche da ripulire. Quindi manco quelle 20.000. E infine, lo sapete, ci sono i cinesi. Qui la famosissima amicizia senza limiti che invece dei limiti apparentemente li ha eccome. E questi limiti sono divenuti evidenti nello stesso momento in cui, sostanzialmente, gli Stati Uniti d'America hanno telefonato alla Cina per dire che se scambiate ancora dei rubli alle vostre banche e facciamo un bippulo tanto, anzi, stacchiamo letteralmente tutte le spine e non toccherete più un dollaro. E dato che tutti i commerci internazionali si fanno in dollari, o comunque la stragrande maggioranza, i cinesi hanno fatto due conti. Uno, i dollari ci servono perché quasi tutti li usano. due, la Russia pesa il 2% nella nostra bilancia di scambi. Forse è meglio che ci teniamo stretti i clienti dell'altro 98. L'Occidente, per inciso, pesa per un buon 60%. Quindi se devi scegliere fra il 2% da una parte e il 60% dall'altra, è chiaro che ti prendi il 60% e dici, mi spiace, 2% sarà per la prossima volta. Quindi, che cosa impariamo da tutto ciò? Impariamo che non esistono amicizie eterne, però in compenso esistono relazioni e interessi persistenti ed è in base a questi interessi e queste relazioni che si mantengono i contatti. D'altronde, raga, Zio Vladi non è mica uno che si fa scoraggiare facilmente. Non lo so, la Cina ti sbatte più o meno le porte in faccia limitandoti a mandarti qualcosina sotto banco? Non è mica un dramma, ti fai nuovi amici. Zio Vladi, per esempio, ultimamente ha stretto dei buonissimi rapporti con l'Iran, con la Corea del Nord, con gli Amassoni e gli Hezbollazzi. Ha iniziato a rifornirli di armi. Non so che cosa possano dare in cambio sti qua, però, insomma, Zio Vladi ci si è buttato. E non pago di ciò, ha anche cancellato dalla lista dei bippisti i talebani. Sta creando il dream team da sogno dei bippisti. Se ci pensate, se c'è un criminale per l'Occidente, quel criminale, 99 volte su 100, collabora con Zio Vladi, riceve armi da Zio Vladi, oppure riceve soldi da Zio Vladi. Ora, ragazzi, non so cosa ne pensate voi, però, se ci fosse qualche filo russo fra le persone che seguono il canale, potrebbe magari cogliere la palla al balzo per tirare la giacchetta di Vladi e dire qualcosa del tipo Vladi, guarda che capisco che tu abbia necessità di farti nuovi amici, ma non è che proprio proprio uno valga l'altro. Non puoi farti degli amici che producono qualcosa di buono invece che discriminare le donne? Sarebbe carino. Ah, oltretutto, Zio Vladi si sta facendo anche un altro nemico, uno di quelli tosti, belli, potenti. Nell'elenco di stati che si sono astenuti e che non si sono esattamente stracciati le vesti per aiutare Zele, troviamo anche l'unica repubblica del Medio Oriente. Anzi, l'unica democrazia del Medio Oriente, perché repubblica si chiamano tutti ormai. Bene, l'unica democrazia del Medio Oriente si è vista attaccare con armi russe nel corso dell'ultimo mese. Al che, dato che l'unica democrazia del Medio Oriente non ha esattamente lo stesso aplomb, lo stesso stile, lo stesso approccio diplomatico di un italiano come Salvini, il presidente di questa democrazia ha preso in mano il telefono e ha detto spazzate via una base russia in Siria, quella che rifornisce la col di retti dell'area. Sai, i tizi con la bandierina gialla, verde e il mitragliatore in mano? Sì, non producono tantissimo grano, però, insomma, i colori della col di retti ci sono. E hanno colpito la base russa in Siria che riforniva i cattivoni giallo-verdi. Quindi, resta ancora qualcuno da cui Zio Vladi potrebbe isolarsi? La risposta è sì. Teoricamente, fra i più o meno alleati è rimasta Zio Vlad dell'Arabia Saudita che ancora scambia i rubli e utilizza la sua moneta per dare un pochino di fiato ai russi, guadagnandoci, naturalmente. Per ora i rapporti sono relativamente civili, ma gli analisti hanno motivo di ritenere che se quando Zio Vladi dovesse rompere le scatole all'OPEC e soprattutto all'Arabia Saudita producendo più petrolio e svendendolo, allora anche l'Arabia Saudita potrebbe provare a fargli un bipulo tanto. E voi che cosa ne pensate della situazione diplomatica e delle relazioni internazionali di Zio Vladi? Come sempre fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. Se poi vi piace il mio canale ricordatevi di ricompensarlo. Iscrivetevi, attivate la campanellina, mettete un bel pollice verso l'alto, un bel like, servono moltissimo. Per voi sono solo pochi click, ma per il canale servono moltissimo. E poi condividete il link al video sui social che frequentate. Scusatemi, ma è tardi per non fare il montaggio, quindi passerà la tosse. Come stavo dicendo, c'è poi la possibilità di abbonarsi oppure ancora di diventare dei Patreon. È un modo per sostenere il canale in maniera molto più diretta. Se non farete tutto questo, in un futuro alternativo, remoto e puramente eventuale, potreste ritrovarvi ad avere come vicino di casa Vladimir Vladimirovich Putin, il quale si presenterà a voi con una torta e del tè. Poi sono affari vostri. Come sempre io vi ho avvisati. Grazie di tutto per tutto e a presto.